carissimi fratelli e sorelle il natale del signore gesù cristo e alle porte ed io in punta di piedi e con umiltà mi permetto di entrare nelle vostre case per annunciarvi questo grande mistero di amore gesù viene a donarci pace viene a dirci che è vicino ad ognuno di noi viene ad asciugare le nostre lacrime viene a guarire le nostre ferite viene a darci coraggio per poter vivere questi giorni con fede spesso capita che ci affanniamo a preparare il natale con addobbi regali cene e poi ci dimentichiamo di invitare lui che è il festeggiato mi auguro che ognuno di noi pensi per primo a gesù e poi a tutto il resto e che i nostri cuori si aprano per condividere con gli altri fratelli questa gioia immensa auguro a tutti di vero il vostro cuore un santo natale e un felice anno nuovo il vostro parroco a 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